ciao a tutti oggi presentiamo il workout di sabato 25 aprile 2020 intanto buon compleanno Cico tanti auguri auguri oggi faremo una versione della quarantena di un Heroes del CrossFit che si chiama Hollywood andremo a fare cinque thruster con il nostro backpack o sovraccarico 3 HS più street e un Barty Clean & Jerker un round I con l'atleta 1 e un round l'atleta 2 quello che non performa il round invece di fare rest farà plank hold ok bene allora andiamo a vedere gli esercizi primo esercizio thruster andiamo a prendere il nostro sovraccarico vai di lì lo portiamo alle spalle e andiamo a fare i nostri thruster la coscietta completa spinta sopra la testa molto bene secondo esercizio HS più street dobbiamo fare la nostra verticale a muro scendo e salgo senza l'utilizzo delle gambe molto bene ok terzo ed ultimo esercizio andiamo a fare il nostro Barty Clean & Jerker quindi andiamo a terra facciamo il nostro Barty quando ci solleviamo prendiamo il nostro zaino lo portiamo alle spalle e andiamo sopra la testa molto bene perfetto se gli HS più street sono un problema possiamo o farli clipping oppure fare dei push up non c'è nessun problema benissimo avremo venticinque minuti di tempo per fare questo workout e buon elemento ci vediamo oggi alla diretta vi ricordo che c'è anche la masterclass alle 10 e 30 su Zoom aperta a tutti sarà una masterclass con diversi box come abbiamo fatto a Pasquetta festeggiamo la liberazione con tutti un abbraccio ciao a tutti ciao